Giovani a Verbagna, indagini, osservazione, ricerca, eventi. È il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale e dal Consorzio Servizi Sociali assieme ad associazioni direttamente impegnate nel mondo giovanile sul quale dopo una prima fase di attuazione si fa un po' il punto. Ecco, come stanno andando le cose dal punto di vista di quelle che erano le finalità che vi eravate proposti? Ma diciamo che siamo partiti con un modello molto soft, di avvicinamento a quello che è il mondo giovanile dopo le varie vicissitudini dello scorso estate dove sembrava che a Verbagna ci fosse una generazione di adolescenti veramente in difficoltà. Siamo partiti facendo delle indagini, siamo partiti facendo dei corsi di formazione, ripeto, in modo molto soft e con le varie associazioni ognuno aveva il suo compito specifico. direi che i risultati sono stati e si vedono sostanzialmente perché ne è emersa una situazione decisamente molto migliore rispetto a quello che si pensava. Non si può nascondere che ci sia l'uso dell'alcol, l'uso della droga perché questo è un dato di fatto droghe leggere prevalentemente per quanto riguarda gli adolescenti. Qual è stato il vostro ruolo specifico e i risultati che almeno al momento avete ottenuto? Ci siamo occupati di raccogliere questionari da un campionario di 100 giovani che andavano dai 16 ai 25 anni e in cui abbiamo chiesto loro quali erano un po' le loro abitudini nell'uscire a Verbagna alla sera, perché ragioni uscivano, perché ragioni si trovavano in gruppo e poi soprattutto quali erano i bisogni e le necessità che percepiscono all'interno della città di Verbagna e molto spesso anche appunto quali sono i bisogni di ciò che manca all'interno della città. La cosa che ne è un po' uscita è il fatto che i ragazzi innanzitutto escono per stare insieme, escono per divertirsi, però quello che purtroppo si è reso chiaro è ogni tanto la mancanza di spazi di aggregazione. L'idea è di partire ma di creare gruppo e farlo partire questo gruppo dal basso, quindi le varie associazioni lavoreranno con i giovani nei luoghi che si riterrà più opportuno anche perché spesso cambiano, che sostanzialmente sono Parco Besozi Begnoli, San Rocco, la chiesa di Santa Marta per intenderci, in Barcadero, quindi lì si faranno, si farà gruppo, si faranno delle attività per far nascere degli eventi che vedono i giovani protagonisti.